Nasce la cabina di regia regionale per la pubblica amministrazione digitale. Lo ha deliberato il governo Schifani nella riunione di giunta. L'organismo ha il compito di definire una strategia complessiva per l'infrastrutturazione digitale e i servizi cloud nella pubblica amministrazione siciliana e di governare la progettualità di regione, enti locali, aziende sanitarie e ospedaliere negli interventi finanziati con i fondi del PNRR. Con l'istituzione della cabina di regia, sottolinea il presidente della regione siciliana Renato Schifani, intendiamo garantire uno sviluppo armonico del processo di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni della nostra isola, affinché possano dare servizi sempre più celere e in modo univoco ai cittadini. Al contempo potremo governare meglio la tempistica e l'efficienza della spesa delle risorse del PNRR, presa e resilienza, destinate all'implementazione delle nuove tecnologie negli enti pubblici siciliani. La cabina di regia dovrà guidare l'evoluzione digitale dell'intero sistema pubblico territoriale. Sono previste quattro fasi, l'elaborazione di una strategia digitale di governance complessiva della progettualità sulla base delle indicazioni nazionali e regionali, una valutazione ricorrente dei livelli raggiunti all'inizio, nel medio periodo e al termine del percorso, l'individuazione di una roadmap di innovazione, con la definizione delle aree prioritarie di intervento per ogni realtà convolta, infine l'accompagnamento degli enti locali e delle aziende sanitarie nell'attuazione delle azioni individuate. Tra le attività che fanno capo alla cabina di regia rientrano anche il monitoraggio finanziario e procedurale, la predisposizione di documenti di report e di orientamento e la comunicazione e la raccolta di informazioni su bandi e avvisi. La struttura è guidata dal coordinatore della segreteria tecnica dell'ufficio di gabinetto della Presidenza della Regione. È composta dai dirigenti generali dell'autorità regionale per l'innovazione tecnologica, dei dipartimenti della pianificazione strategica, della programmazione delle autonomie locali, dal direttore dell'ANGI o un suo delegato, delle responsabili dell'area manager sud-ovest e del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ne faranno parte anche i dirigenti generali dei dipartimenti regionali di volta coinvolti nelle attività.